attenzione attenzione soldato nemico cavalleria nemica perivolo nemico avvistato vedo un medico un nemico nemico a cavallo siamo attenti c'è un soldato occhi aperti autoblindo raggiù quello è un trucco quello è un aereo nemico mi servono proiettili visto è un medico nemico ragazzi aereo nemico contatto visivo con un soldato nemico mitragliatricio nemico con un soldato nemico vero Un ricognitore nemico, laggiù! Ho localizzato un ricognitore! Visto? Uno dei loro soldati! Un aereo, laggiù! We have lost Objective Edward. Come on, come back! We have lost Objective Butter. We have taken Objective Charley. Halfway there, the enemy has the upper hand. We have lost Objective Duff. We have one Objective remaining. We have taken Objective Edward. Ehi, vedo un ricognitore nemico. Ho individuato un soldato nemico. Là c'è un ricognitore! Ehi, là c'è un medico nemico! Occhio, una mitragliattrice nemica, là! Un soldato a cavallo, laggiù! Occhio! 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 A sentry kit is available near your location. Ehi! Là c'è un soldato! Un soldato nemico! Là! Attenzione! Quello è un soldato nemico! We have taken objective, Duff. Abbiamo preso la... Sì! È un soldato nemico a cavallo! Ho visto un soldato! Vedo uno dei loro soldati! We have lost objective charge. Attenzione! Attenzione! Soldato nemico! Attenzione! Quello è un soldato nemico! Soldato nemico individuato! Vedo uno dei loro soldati! Ho visto un soldato! Ehi! Là c'è un soldato! Contatto visivo con un soldato nemico! We have taken objective butter. Obbiettivo preso! Sciacca da scienzi ragazzi! Laggiù! Quello è un crocco! We have taken objective Charlie. Obbiettivo preso! Oggi è un soldato nemico! Da pazienza per psigga! No! We have lost objective butter! No! Vi e 로 Copperas! I amante caro! Veniva l'ennemico! Veniva l'ennemico! Voglio munizioni! Occhio! Bombardiere! Ho visto una mitragliatrice! Lancia una granata, occhio! Ricognitore! 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 Quel ricognitore è uno dei loro! Quella è una mitragliatrice nemeca! Ricognitore! Meldi con nemico! We have lost objective dove. Ascolti! Siamo perdendo gli obiettivi. 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 Un ricognitore. Attenzione! C'è un ricognitore! 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 Sì, è un soldato nemico a cavallo! Soldato nemico in schiena! Un soldato nemico! RAH! Contatto visivo con un soldato nemico! Return to the combat area. RAH!